Secondo arresto in flagranza di ferite in meno di una settimana in provincia di Venezia, in Manette stavolta a Mira, marito violento, grazie alla denuncia ai carabinieri della moglie, che stanca dei troppi maltrattamenti e vessazioni, ha consegnato ai carabinieri la registrazione della violenza del marito subita la sera prima davanti al figlio piccolo, momento in cui ha deciso di dire basta e fornire la prova delle sevizie. L'arresto in flagranza di ferita, grazie alla modifica del cosiddetto codice rosso a tutela delle donne maltrattate, è avvenuto dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin. Nei casi di maltrattamenti in famiglia, nei casi di vieto di avvicinamento alla casa familiare o di obbligo di stare di fatto lontani da quelli che sono i luoghi della vittima, nei casi degli atti persecutori come lo stalking, consente alle forze dell'ordine e alla magistratura di intervenire entro le 48 ore dal delitto da parte dell'autore, l'autore che compie questi atti e deve esserci però anche una documentazione come una foto o un video. Dall'assassinio di Giulia Cecchettin a Venezia e terraferma in aumento presso i centri di antiviolenza le denunce di violenza e maltrattamenti, specie in famiglia, anche in virtù delle iniziative nel territorio del Novembre Donna, l'appello della Presidente del Consiglio Comunale di Venezia. L'invito ovviamente alle donne, a tutte le donne vittime di violenza è di denunciare e di chiedere sempre aiuto.